sono manuel di geronimo sparta racer coach sgx laureato in scienze motore di osteopaca in questi video vi racconterò tutto sul mondo spartan e ocr scoprirete insieme a me tutti i segreti dello sport più bello della terra non esistono ostacoli troppo grandi esistono solo motivazioni troppo piccole ciao a tutti ragazzi qui in mano di geronimo oggi parliamo di allenamento e sparta race la domanda più comune la domanda più dubbia è come preparare una sparta race mi sento di poter parlare di ciò perché sono laureato in scienze motorie specialistica faccio il personal trainer da sei anni sono coach sgx ma a parte tutti questi titoli che secondo me nella vita servono ma il giusto ho studiato tanto ho fatto tanto in sparta e soprattutto ho una passione pazzesca per questo sport allora ci sono tante scuole di pensiero questo è il discorso sappiate che a roma si può arrivare in autostrada in superstrada in macchina in bici e in tutto quello che volete ma ci si può sempre arrivare in tutti i modi allora innanzitutto la sparta la differenza delle ocr ha una predisposizione per la corsa quindi la base della sparta è fondamentalmente una base di corsa se non correte non potrete mai eccellere nella sparta chi vince parità di qualità e chi corre più forte chi corre più forte in montagna e corre più forte in discesa questo perché gli ostacoli sono più o meno difficili si possono più o meno sbagliare ma gli atleti di elite fanno pochi pochissimi errori ma questo si aggiunge il fatto che non solo questo cioè anche se le persone riescono a fare degli ostacoli in modo un attimino più rapido a meno che non sia una gara corta e piatta non non riescono ad eccellere sul piano della corsa l'unica cosa che può essere se ci sono dei trasporti lunghi una persona un pochino più forte può riuscire a recuperare qualcosa allora quindi corsa alla corsa ci va assolutamente messo un piano di potenziamento cosa vuol dire potenziamento potenziamento è inerente a potenziamento degli arti superiori inferiori e del core degli addominali via dicendo questo vuol dire che una seduta di potenziamento specifica che sia esercizi come squat o soprattutto esercizi asimmetrici come affondi via dicendo sono essenziali perché vi riducono gli infortuni quindi anche se siete runners andrete a preparare la muscolatura in questo modo a questo se rinforzate gli addominali avete meno problematiche sul schiena via dicendo e rinforzare gli arti superiori è essenziale alla vostra preparazione per la sparta però non basta la sparta ha una grossa fregatura è uno sport a componente mista che vuol dire in italiano che ha una componente aerobica ma anche una componente anaerobica per farvi un esempio uno sport a componente mista è il crossfit dove devi saper fare di tutto un po' però la differenza è nella sparta predilige la corsa quindi è uno sport a componente mista ma dove si deve correre forti e bisogna essere leggeri quindi bisognerà anche allenare tanto l'intensità perché secondo il mio studio fatto sul modello prestativo cioè la tipologia di sport che la sparta c'è da correre ad alta intensità sono soprattutto ripetute sub massimale quindi all'85 per cento della frequenza cardiaca dove io vi consiglio di lavorare in modo molto molto attento a questo bisogna aggiungere un lavoro specifico sugli ostacoli e di grip questo perché la maggior parte degli ostacoli che creano difficoltà sono ostacoli di equilibrio l'unico modo per allenare gli ostacoli di equilibrio come la slackline è fare la slackline gli ostacoli di abilità come lo spiartro l'unico modo per allenare lo spiartro è tirare lo spiartro con conrad il norvegese mi diceva che il mercoledì tirava all'inizio dai cento alle mille volte lo spiartro per tutte le volte che riusciva per un'ora consecutiva andava di corsa a riprenderlo e tornava questo è il suo allenamento a ciò vi dico c'è da allenare il grip perché gli ostacoli che soprattutto mettono in difficoltà tanti atleti sono gli ostacoli in sospensione quindi le multibar il twister via dicendo l'unico modo per allenare il grip è rimanere in sospensione e allenare con esercizi specifici di potenziamento per gli arti superiori come possono essere tenute alla sbarra possono essere trazioni e via dicendo come impostare però il vostro programma allenamento allora io personalmente vi consiglio di impostarlo in base a come voi siete abituati se non correte tanto non potete partire e fare quattro volte a settimana la corsa perché vi infortunerete se volete migliorare il piano aerobico dove magari siete più caerenti alle tre volte massimo quattro di attività aerobica dovete aggiungerci un'attività che non sia corsa come bicicletta o che sia rowing o pattini o quello che cazzo volete basta o piscina è quello che è se siete un pochino più carente sulla forza dovrete lavorare sugli esercizi in sospensione soprattutto per le donne ma anche questo dovrà essere progressivo perché se no vi farete male alle spalle cosa dire inoltre quello che vi consiglio se pensate se dover fare i pesi o meno è sì si possono fare i pesi no non si può predeligere un allenamento con i pesi io sono amante dei pesi ma parlando con gli atleti più forti del mondo nessuno li fa o meglio nessuno fa pesi pesanti io credo che una base di pesi pesanti possa servire ma quello che serve è comunque allenarsi con allenamenti più funzionali e più specifici alla corsa e all'obstacle training fatemi sapere un pochino voi come vi allenate cosa ne pensate nei commenti non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale youtube e ci vediamo al prossimo video aro ciao ciao Grazie.